amore di dio amore di fratelli e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene tornando a casa troverete i bambini date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa troverete qualche lacrime da asciugare dite una parola buona il Papa è con noi specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza aprite anzi spalancate le porte a Cristo alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati i sistemi economici come quelli politici i vasti campi di cultura di civiltà di sviluppo non abbiate paura grazie